Le bambine sono desiderate in soggiorno per l'ora di lettura Eh no, non stava furba, quello stava a memoria E con le scelte? Un morbido gattino Che significa? Rosicchiappiccio No, la agi bene Rosiccio? No, rosiccio, quante asse ci sono? Rosicchio Rosiccio Facciamo una cosa, siediti composta Ma non vedo da qua Se stai seduta composta Sei più rilassata, riesci a leggere No, mi chiedo sul divano Ma non voglio di leggere adesso La scatola che si muove da sola No, no, cosa c'è dentro? Nasconder A nasconderci A nasconderci Un'altra volta Perché? Non l'hai mica detto bene? Non mi chiedo di leggere No, qua con l'hai perché se no l'hai distratta Ehi Iniziamo con la prima roba Seduta I dinosauri dominarono il mondo per un periodo lunghissimo Leggi con calma, non ti agitare Gallini Leggelo quando non riesci a leggere la parola, la dividi in sillabe Alcuni come il gallino avevano un corpo enorme E tozzo E tozzo E tozzo E tozzo Che abbiamo là Che hai letto Com'è che si chiamava? Che si chiamava Lucciartola Lucciartola Grazie 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 a tutti.